Era uscito di casa nella serata di ieri per andare in cerca di castagne, ma a distanza di alcune ore non aveva fatto rientro per la cena. Pietro, rotondò di 84 anni, è stato trovato all'alba di oggi, riverso a terra, ormai senza vita. A non molta distanza dalla strada, in località Parantoro, nel comune di Montaltofugo, nel Cosentino. Il decesso sarebbe stato provocato da un improvviso malore. I familiari dell'anziano signore, non vedendolo rientrare in serata, hanno segnalato la scomparsa. E verso le 11 di ieri, una squadra di tecnici della stazione Sila Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, attivata dalla centrale operativa del 112, si è subito recata sul posto ed avviato le ricerche. Alle operazioni di setaccio della zona hanno partecipato i militari del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza della stazione di Cosenza e i Vigili del Fuoco. Alle 5 di stamani sono stati gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria a trovare l'anziano, ormai purtroppo esanime.